Negli ultimi 25 anni abbiamo raggiunto dei risultati importanti nell'ambito della raccolta, del riciclo e del riuso della plastica. Oggi possiamo dire che stiamo affrontando delle nuove sfide, delle sfide importanti che ci vedono protagonisti in Italia e non solo, ma anche in Europa. Un nuovo regolamento viene proposto a livello europeo. Noi cerchiamo in ogni modo di far valere le nostre competenze, le nostre capacità e quanto sviluppato negli ultimi 25 anni. Dobbiamo dire che i risultati ottenuti li abbiamo ottenuti attraverso il supporto di tutta la comunità, a partire dai cittadini, a partire dai nostri centri di selezione, attraverso ANCI, la raccolta, i comuni e soprattutto col supporto di CONAI. Oggi, grazie all'aiuto di tutti, credo che abbiamo raggiunto dei risultati importanti, dei risultati che devono essere riconosciuti e dei risultati che devono avere un valore a livello europeo.